Terzo giorno, io non già faccio più. Portiamo da questo risultato. Io non già faccio più. Siamo felici perché comunque vediamo anche l'allegria delle persone che si divertono. Belle lezioni, bellissimo ambiente. Ci siamo sentiti subito accolti da tutta la community di B-Swing. Diciamo che il calore del sud si è fatto sentire fin da subito. Tutti hanno partecipato in tutti i lezioni. È stato fantastico. Succedono tante cose belle in questa città e questa è veramente una cosa bella. Dovete venire a Taranto Swing Festival per assaporare ed entrare nel mood degli anni 30, 40 e 50. Quindi dovete immergermi in questa bellissima atmosfera. Siamo molto felici di essere qui. E mi consiglio di calciare, non sarai disperdito. Taranto Swing Festival.